La situazione meteorologica sulla regione vede alta pressione per quanto riguarda sabato, pur che con un po' di instabilità in montagna, mentre un fronte arriverà domenica determinando un graduale peggioramento sulla nostra regione. Sabato prevediamoci l'ingendere poco nuvoloso su pianura e costa, più variabili montagne segnatamente nel pomeriggio quando sarà possibile qualche locale rovescio o temporale. Temperature estive con valori minimi intorno ai 20 gradi in pianura, intorno ai 24 sulla costa, massime saliranno sui 32-34 gradi in pianura, fermandosi intorno ai 30 gradi sulla costa che beneficerà della brezza dal mare. Domenica al mattino avremo tempo discreto un po' su tutta la regione, dopodiché avremo un rapido peggioramento a partire dai monti che determinerà rovesci temporali sparsi, anche in mattinata, appunto in montagna, rovesci temporali che poi nel pomeriggio si porteranno sulla pianura e in serata probabilmente localmente interesseranno anche alcune zone della costa. venti a regime di brezza o in genere provenienti dal mare nelle ore diurne, invece nel pomeriggio e verso sera entrerà vento da nord, specialmente in pianura e sulla costa occidentale. Le temperature saranno un po' più basse rispetto a sabato con massime ferme a 30-32 gradi in pianura, intorno ai 29 sulla costa, qualche temporale potrebbe essere anche forte. Tempo instabile con rovesci temporali sparsi e piogge nella giornata di lunedì, un miglioramento relativo invece ai martedì con variabilità ma con probabilità di piogge decisamente più bassa. Farà naturalmente più fresco sia lunedì che martedì con vento di bora. È tutto dall'Osmer, Arturo Pucillo vi saluta.